Amici di Piazza Grande, ben ritrovati, l'appuntamento è il giovedì, ospite già lo vedete, Uber e Pertl, benvenuto, ben ritrovato a Piazza Grande, tu c'eri ancora quando non avevamo la scena nuova, bella, ci manca solo il caffè e poi siamo a posto. Allora Presidente, non farmi sbagliare perché hai due cariche, uno è il Presidente Derrit Mayer, tutto per Cechi, che tra le altre cose è probabilmente il più conosciuto in giro per l'Italia e per l'estero che a Trieste come tante cose, e dopo sei anche Presidente di Trieste Regional dell'Unione Italiana Cechi. Benvenuto, in questa prima parte partiamo di un appuntamento che si svolgerà sabato nell'auditorio del Museo Revoltella tutta la mattina, è la giornata nazionale del Brasile, che cosa si tratta? So che è molto interessante. Si tratta di una legge che è stata fatta nel 2007, con la quale si è stabilito che il 21 febbraio si celebra la giornata mondiale della scrittura braille, quindi del braille. scrittura che ha cambiato nettamente la vita di tutti i non vedenti e gli ipovedenti. Ricordiamo cos'è il braille. Appunto, una scrittura che ha cambiato un modo di scrivere, che ha cambiato la vita al non vedente e agli ipovedenti, dandogli la possibilità di accedere alla cultura, integrandosi totalmente e perfettamente nelle scuole, nella vita quotidiana e appunto l'accesso a tutto quello che esiste di scritto, oggi l'informatico, eccetera. Braille è un metodo, una scrittura che è stata inventata da Louis Braille nel 1830, il quale è stato ferito nella bottega del padre e è rimasto cieco, quindi inserito nell'istituto di Parigi per ciechi, ha inventato questo sistema che cerco di spiegarlo in maniera molto semplice, si tratta di un codice fatto da sei punti in rilievo, che si percepisce tattilmente, quindi con i polpastrelli si legge, sei punti dicevo, quindi un codice fatto da una variazione di sei punti, tre verticali a destra e tre a sinistra, in un quadratino rettangolare, quindi si passa da un puntino che potrebbe essere l'A a sei puntini che sono lettere, oggi questo è importante anche, il Braille è usato a livello universale, quindi la stessa scrittura per tutto il mondo, questo non ce l'hanno neanche i normovedenti, perché come sapete… Possiamo dire che questo è una sorta di codice a base, per sottolineare? Sì, perché poi questo nel 1830 un ufficiale francese lo adottava prima per tutt'altro scopi, per comunicazione notturne dei soldati, di ordini etc., poi è stato utilizzato per i non vedenti, perché prima c'era una scrittura molto complessa fatta da lettere riprodotte in rilievo, quindi fatte con fili di ferro o quant'altro, insomma, quindi molto complessa, molto difficile da interpretare, perché ci sono delle lettere simili e quindi tattilmente, difficilmente percepibili etc., invece con questo metodo hanno scoperto che un non vedente con anni ovviamente di esercizio riesce a leggere a pari velocità e a pari condizioni di un normovedente, quindi autonomia e libertà. Senti, che è più semplice? Se una persona è cieca della nascita, se diventa cieca dopo o è indifferente imparare questo codice? No, 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 è molto differente. Se è cieca della nascita o comunque da bimbo, come tutte le cose, tutte le scuole, l'apprendimento dei bambini, si sa, è sicuramente maggiore di quello, di un soggetto che ha avuto a media o tarda età, si trova nella condizione di doverlo imparare, anche perché devi pensare che una persona che, che ne so, ha fatto dei lavori di fatica, tutta la vita, dopo andare a sviluppare il tatto in questa maniera, non è più così semplice, insomma, quindi ovviamente i bambini lo imparano abbastanza velocemente, quindi poi dipende, non per tutti è uguale, chi più, chi più velocemente e chi meno, ma comunque si tratta di anni per essere a buon livello. Mentre per un normovedente, perché noi facciamo con l'Istituto del Maier e anche per l'Unione, presso l'Unione di Tiana Cecchi, dei corsi di questa scrittura, perché noi troviamo, noi li facciamo soprattutto con l'intento di, e dare soprattutto un esempio al proiettato degli studi che dovrebbe aggiornare, cosa che non fa, ahimè, tutti gli insegnanti di sostegno, perché altrimenti siamo, pensate nel 2015, ancora oggi, ad un rapporto di un ragazzo su tre e seguito in maniera corretta, appunto, nelle scuole. Questi insegnanti di sostegno, quando ottengono questa qualifica, appunto, gli insegnanti di sostegno, hanno un punteggio che purtroppo la gran parte ha utilizzato per passare di ruolo, quindi il punteggio superiore che doveva servire al sostegno del ragazzo non vedente o sordo o quant'altro, insomma, è stato utilizzato come sempre qua in Italia, purtroppo abbiamo un difetto di collocazione della metodologia. Comunque, quindi, come detto al Rittmai e alle riunioni di geniacecchi, facciamo questi corsi anche per i normovedenti, chi è interessato, perché tanti vengono per l'interesse, i genitori che hanno dei ragazzi non vedenti per dargli una mano, per un vedente e facilissimo, cioè, proprio in qualche ora direi, perché chiaramente avendola vista è molto facile, dopo si tratta solo di tenere a mente il codice, ma se uno lo confronta e lo legge su un tabulato dove gli do l'alfabeto, direi che in un'ora può anche leggere il Braille. Torniamo appunto all'appuntamento di sabato, sono moltissime le persone che vengono e di fatto l'appuntamento di sabato, possiamo dirlo, è forse tra i più importanti degli ultimi organizzati a livello italiano? Direi proprio di sì, perché abbiamo qui dei personaggi che è difficilissimo avere, abbiamo il segretario mondiale del Braille, uno spagnolo, Pedro Zubrita che viene qui ed è colui che ha reso possibile praticamente l'uniformità del codice Braille a livello mondiale, quindi un personaggio importantissimo soprattutto per il mondo dei non vedenti e degli povedenti. Poi abbiamo il Presidente nazionale, abbiamo il Presidente regionale della Lombardia, nonché il Presidente del Braille, abbiamo tutti i Presidenti degli istituti presenti sul nostro territorio e quindi tutte le istituzioni pro ciechi, tra cui biblioteche, la Regina Margherita, Monza, grandissima biblioteca nazionale appunto per non vedenti, abbiamo quindi veramente tantissimi personaggi ed è vero un evento veramente straordinario. E' tutta l'altra cosa, noi la settimana dopo lo proponremo anche con questo di antenne integralmente e anzi ringrazio proprio Uber che appunto ci dà la possibilità poi di poi poterlo portare anche a casa perché ovviamente a parte che è interessante uno, seconda cosa tutti possano diventare ciechi, io personalmente già mezzo lo sono per cui nella vita non si sta mai ma poi anche perché l'auditorio del Museo Revoltella non è grandissimo, quindi presumo che la possibilità per poter anche assistere sia molto limitata, presumo che sia su prenotazione se qualcuno vuole andare. Ma prenotazione no, però insomma noi speriamo che ci stiano tutti, abbiamo avvisato alcune scolaresche perché è importante che i ragazzi ci siano, perché è importante che si rendano conto che qualora capita spesso durante l'arco della scuola si trovano un ragazzo che ha problemi di vista nella propria classe non ne facciano un dramma perché insomma è un ragazzo normalissimo, chiaramente gli manca uno dei sensi ma ha sicuramente tutti gli altri. Di solito però si sviluppano di più gli altri. Di più, diciamo uno è per forza abituato ad usarli meglio perché il normo vedente è distratto dall'immagine, da tutta una serie di cose che non gli fanno godere a pieno diciamo gli altri sensi dopo. Stiubal, come mai è stata scelta proprio Trieste? È stata scelta Trieste perché diciamo così, noi abbiamo qui un istituto credo oggi possiamo definirlo una perla a livello europeo che ha saputo trasformarsi in questi anni da scuola speciale qual'era negli anni 70 in un ASP, anzi APSP che sarebbe azienda pubblica, attenzione quindi azienda pubblica per i servizi alla persona. Questo è molto importante perché non ce ne sono in Italia, la gran parte degli istituti hanno scelto canali diversi, sono diventati fondazioni, sono diventati quant'altro, quindi qua a Trieste abbiamo una realtà, ripeto, pubblica, quindi vi si può accedere chiunque abbia questo tipo di problemi. Lo stiamo ancora riempendo perché il lavoro chiaramente non è finito, perché quando otterremo l'accreditamento con l'azienda sanitaria penso che riusciremo a fare la quadra di un servizio completo a tutte le persone non vedenti ed un esempio sicuramente da seguire per tutto il resto del paese, quindi Trieste ha in questo caso una super eccellenza. Allora, io vi ricordo l'appuntamento del bar, del rischio del bar e tutto quello che è appunto un po' il mondo di cerchi, è un appuntamento interessante perché sì, è una giornata in cui si parla di cerchi ma anche di chi comunque potrebbe diventarlo o comunque con cui ci vive. Lo ricordiamo, sabato mattina, questo sabato 21 alle 9, 9 e mezza, 9 e 30 sì. Alle 9 e 30 noi saremo anche lì per la settimana poi lo torneremo a trasmetterci, fermiamo un attimo per la pubblicità e dopo a rientro invece facciamo un po', adesso va molto di moda a fare i report di mandato, noi cercheremo di fare un mini viaggio tra ieri e oggi le cose come cambiano in peggio ma ogni tanto magari anche in meglio tra poco.